Io ho il compito di parlare oggi di un tema che mi è particolarmente caro, che è quello delle mascherine. Perché? Perché le mascherine sono fondamentalmente un simbolo che fanno pensare alla gente che l'emergenza non è cessata. Quindi finché porteremo le mascherine, e io capisco che chi mi sta guardando pensa che sia una contraddizione in termini, che io stia parlando contro le mascherine, portando una mascherina, finché porteremo le mascherine, vorrà dire che questa pandemia non finirà. Perché continueranno comunque a cavalcare l'onda dell'emergenza. Allora, io voglio portare alla vostra attenzione due provvedimenti che sono abbastanza recenti. Uno è un'ordinanza del Tar del Lazio del 13 luglio, con cui si è fatto un passo, dal mio punto di vista, molto importante. Ovvero sia, il Tar ha stabilito che il provvedimento che prevedeva la mascherina per i bambini sotto i 12 anni a scuola era un provvedimento del tutto immotivato, in quanto andava contro addirittura le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi un provvedimento senza fondamento giuridico e scientifico. A ruota è seguita una sentenza di pochi giorni fa, con cui sempre il Tar del Lazio, giudicando su un ricorso di un'associazione, Baccipiano, ha stabilito ancora una cosa ulteriore. Ovvero sia, intanto ha ampliato la platea di persone, cioè di ragazzi che possono usufruire di questa esenzione a scuola, fino a 13 anni, perché ha fatto chiaro riferimento a tutti i ragazzi fino all'ultima classe della media. E pur giudicando improcedibile questo procedimento, perché riguardava il DPCM del 3 novembre, che naturalmente era scaduto, ha però stabilito un principio molto importante, cioè ha dichiarato comunque incostituzionale questa disposizione. E questa volta ha fatto un passo ulteriore, perché non c'è soltanto un difetto di motivazione, ma ha detto che il principio di precauzione, che è quello che in pratica ci sta facendo applicare queste norme di contenimento del virus, era stato applicato male, c'era un eccesso di potere, era viziato. Cos'è il principio di precauzione? Il principio di precauzione è un principio nato attorno al 2000 in ambito europeo, per la tutela dell'ambiente, e si differenzia dal principio di prevenzione, perché il principio di prevenzione impone a tutti gli Stati di mettere in atto delle misure che possano scongiurare un rischio ambientale. Dall'ambiente poi si è passati all'ambito della salute, quindi il principio di precauzione è il principio che viene normalmente utilizzato attualmente per la tutela della salute. Quali sono i limiti di questo principio, però? Sono fondamentalmente gli stessi principi che stanno alla base dell'atto amministrativo, ovvero sia il principio di razionalità e il principio di proporzionalità. Il Tribunale ha stabilito, in questa sentenza, che tutti e due questi principi erano stati violati. Questo perché nel mettere in atto delle misure che debbano scongiurare il rischio di una catastrofe sanitaria, bisogna valutare i rischi e i benefici, e i rischi, i danni, non devono essere superiori a quelli che si vogliono evitare. Noi stiamo adesso mettendo in atto delle misure assolutamente assurde e folli per un virus che ha una letalità stimata dallo stesso MS attorno allo 0,27%. Sotto i 50 anni questa letalità scende addirittura allo 0,05%. Quindi si capisce bene che tutte queste misure sono comunque viziate da eccesso di potere. Questo ha stabilito il Tar del Lazio. Ora, la diatriba è se questa misura sia efficace oppure no, perché comunque il Tar ha dichiarato improcedibile questo ricorso. Ma in realtà non è importante questo, perché quello che è importante è che il Tar ha stabilito che questa norma è illegittima. Quindi tutti i successivi provvedimenti, che siano di PCM, che siano decreti legge, dovranno tenere conto di questo fatto. E quindi questo è un grosso passo avanti che noi abbiamo ottenuto, noi, le associazioni, tutti coloro che hanno fatto ricorso. Noi abbiamo fatto, nell'ordinanza che ho ricordato prima, un intervento adesivo in un ricorso presentato dalla collega Corrias e Scifo per la tutela di una minore di 12 anni. E abbiamo sostenuto ben 940 genitori, i quali, chiaramente, sono stati molto soddisfatti del successo ottenuto. Genitore che potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, perché i loro figli, finalmente, potranno andare a scuola senza mettere la mascherina. Ma qual è il tema più generale delle mascherine? Allora, la mascherina, in linea generale, è un dispositivo di protezione, ed è un dispositivo sanitario. Quindi è a tutti gli effetti un trattamento sanitario. E come tale deve essere conforme a quello che è stabilito dall'articolo 32 della Costituzione. E l'articolo 32 prevede che nessuno possa essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà. Vero è che è fatto salvo che questo trattamento sanitario può essere disposto per legge. C'è però un limite che è quello della dignità personale. E c'è un altro punto, perché l'Italia è comunque tenuta a rispettare tutti i trattati internazionali. Quindi la Carta dei diritti europea, la Carta di inizia, il Trattato di Oviedo, i quali prevedono che il consenso informato è la base di qualunque trattamento sanitario. Quindi nessuno può essere sottoposto a un trattamento senza il suo consenso.